Oh! Ma quando è durata sta messa? Eh, non lo so, è che non c'è stata pura benedizione. Pure? Eh, chanò, dove ho venito al palamarezzo? Non so, non so, non so! Mangiate oggi e pagate fra otto giorni! Faccio il sorreo a pizza! Venito, venito! Buongiorno, Anna Sofì! Buongiorno, Don Rosano! Dattemi una pizza! Cominciamo a giornate che dà finita! Vabbù! Ti comodoci a te? Salutatela! Me ne farei due! Presto, presto che me ne devo andare a letto! Niente! Guardia notturna, capiro! Pizze due! Rosa! Umberto, scogna miglio, pizza una! Don Rosano! Signore! Mi favoreite due pizze? Vi servo subito! No, non so! Un altro figlio! Quanto si dà ora! E voi pensate sempre a sti cosa? Vedrete chi sti prò memoria! Non so! Copriti! Che cosa? Copriti! Un rosa! Donna Concetta, pizze due! Buongiorno! Non va più! Come andiamo? Ma signore, come sta? Come va Dio! Male! Male! Povera Clara! Datemi sta pizza! Sì, sì, sì! Don Pappé! Buongiorno! Don Pappé! Non vi abbattete! C'è sempre speranza! Quella resiste! Ce l'ha fatta! Grazie! Sperammo che quella bella mamma do Carmine... ci metta mano su io! Due pizze per l'avvocato Cutolo! Chi l'avvocato? Quella è in arretrata da due mesi! Voglio un giustanien da fa! Beppo, bravo! Dopo il ripaparaccio! Di Beppo! Buongiorno, donna Sofì! Quando venga a voi è sempre una giornata sola! All'anno verrà giornata sola! Scusate, don Rosà, se non vi dispiace... Io la vorrei essere fatta mamma dalle mani di donna Sofì! Non si è facita perdere tempo che accenda aspetta! Non abbiamo capito, don Rosà, con voi non si passa! Voi state sempre col fucile puntato! Non si è fatta... A Valetta, tu sta? Dietro L'Hermuet.